bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi andiamo ad aprire le nuovissime bucche george g435 guardate bene allora iniziamo ad aprire qui possiamo subito vedere la scritta keep playing che non vi dico cosa significa andate per cercare su google allora iniziamo prendo la scatolina questa scatolina qui in cui troviamo pennina per attaccarlo al pc cavo di ricarica e aspettate un attimo e troviamo poi troviamo anche bollino logite e tutti i vari manuali di sezioni come cambiare la batteria allora vabbè rimettiamo tutto dentro vabbè adesso io lo lasciamo lì chiudiamo le nostre cuffie eccole qua togliamo via l'involucro ed ecco qua come si presentano le cuffie ovviamente io l'ho già aperte perché non riuscivo ad aspettare anzi ho fatto un altro video in cui l'ho aperto quindi le pellicine non ci sono le pellicine le le plastiche non ci sono sopra e vabbè il video finisce qua ciao comunque sono comodissime sono bellissime te le metti sembra di non averne ciao allora adesso mi sono dedicato di dirvi una cosa super veloce che se voi andate a premere tenere premuto il pulsante del microfono che qua sotto per mutare il microfono vi darà la funzionalità bluetooth potete connetterlo al telefono qualsiasi cosa volete ciao